allora per fare il pannello di Rulof penso... c'ho qualcosa... allora questa è una vecchia cornetta dice di centrale telefonica di una vera e propria centrale telefonica contagini di un aeroplano attacco per la cornetta perché prenderemo questa qui che è la scatola con cui venivano venduti gli attoparlandi Graciare che ho trasformato nell'AudioLegion 2 ovvero una test box per provare gli attoparlanti e quindi come potremmo svilupparlo? molto semplicemente vediamo un po' ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.